Maestra, oggi abbiamo conosciuto James Fox, si è divertita? Tantissimo! Abbiamo affrontato la sicurezza stradale, pensa che sia un buon metodo per affrontare temi così importanti? È un ottimo metodo, anche perché così i ragazzini ad imparare si divertono. Che ne pensa della metodologia utilizzata? Io penso che sia un ottimo sistema, divertente, interattivo, che rende partecipi i bambini e che soprattutto lancia un messaggio molto importante sulla sicurezza e nella maniera adeguata, secondo me. Ma lei è pronta a sostenere i suoi ragazzi se dovessero arrivare in finale? Certo! Ed oggi lei è diventata aspirante agente, è pronta a sostenere i suoi ragazzi per far diventare agenti anche loro? Ebbene sì, sono pronta! E che dici, arriveranno in finale? Perché no, se si impegnano possono arrivare dove vogliono. Ragazzi, ci arrivate in finale? Sì! Facciamo un saluto a James? Ciao! Facciamo un saluto a James? Ciao, Teddy!